Ciao a tutti e benvenuti. In questo video desidero darvi un supporto concreto per la preparazione dell'unità di apprendimento in vista dell'orale del concorso docenti. In questo video in particolare vi spiegherò che cos'è un'unità di apprendimento e quali sono, secondo me, i punti fondamentali di cui dovete tenere conto per creare una buona UDA. Iniziamo spiegando che cos'è. L'unità di apprendimento è un percorso strutturato di apprendimento che ha lo scopo di costruire delle competenze, come attraverso la realizzazione di un prodotto, che può essere materiale o immateriale, in un contesto esperienziale, quindi all'interno di un ambiente di apprendimento laboratoriale con l'alunno al centro, attivo costruttore delle proprie conoscenze e abilità. Vediamo la differenza tra quella che è l'unità didattica e l'unità di apprendimento. Entrambe infatti sono dei moduli di apprendimento, ma differenti nella sostanza e lo dicono proprio i loro stessi nomi. L'unità didattica infatti si focalizza sulla didattica, sulla disciplina e mette al centro il ruolo del docente. Il focus infatti è sugli obiettivi disciplinari. Parte da degli obiettivi disciplinari e attraverso una serie di attività mira a conseguire le conoscenze e le abilità che sono appunto il fulcro della valutazione alla fine del percorso. Chi è al centro? Dicevo il docente. L'unità di apprendimento invece come dice il nome stesso mette al centro l'apprendimento e l'allevo con le sue competenze di partenza. Mira la strutturazione di un percorso che attraverso la creazione di un prodotto, dicevamo materiale o di materiale, mira a conseguire nuove conoscenze, abilità e competenze. E sono proprio le competenze ciò che viene valutato al termine di questo percorso. Chi è al centro in questo caso? Gli allievi. Gli allievi che agiscono in autonomia spesso in collaborazione con il gruppo dei pari. Il docente svolge invece un ruolo più da regista, mediatore, creatore di setting di apprendimento. In questa slide che potete visualizzare dal mio sito ho raccolto due format a confronto, quello di Franca D'Aret e di Castoldi. Li potete scaricare dal mio sito maestragiulia.net. Ora vi mostro quella che è stata la mia scaletta. L'UDA infatti l'ho divisa per facilitarvi la comprensione in tre parti. Quella che ho definito introduzione e progettazione, lo sviluppo, attuazione e infine la valutazione. Iniziamo con l'introduzione. Il vostro PowerPoint inizierà infatti o la vostra presentazione in generale inizierà con nome, cognome e traccia. Segue la denominazione della vostra ODA ovvero il titolo. Segue poi il compito autentico, il prodotto atteso perché appunto come ho detto precedentemente l'unità di apprendimento si focalizza su quelle che sono le competenze da raggiungere al termine del percorso. Quindi è importante definire fin da subito quelle che sono le competenze chiave attese e queste le dovete scrivere facendo riferimento ai traguardi dello sviluppo delle competenze che trovate nelle indicazioni nazionali e quella che è la prova finale per valutare il raggiungimento di tali competenze. Quale prodotto volete far creare ai vostri alunni? Ma questo lo vediamo meglio dopo. Focus sul compito autentico alla fine. Dovete poi inquadrare la vostra unità di apprendimento all'interno del quadro teorico e metodologico per cui se utilizzate per esempio il cooperative learning dovete andare a scrivere appunto il riferimento teorico e metodologico. Ma passiamo ora alla parte che secondo me è più importante ovvero la contestualizzazione della vostra ODA. Il vostro percorso infatti deve essere rivolto a dei destinatari che sia voi che la commissione d'esame devono essere capaci di immaginarsi. Per far questo però è necessario a mio parere partire da uno sguardo un po' più ampio quindi con uno zoom che parta dalla città comunque dal contesto più ampio quindi è una scuola di montagna, una scuola di centro città, una zona di periferia vicino al mare. La scuola, quale tipo di utenza ha questa scuola e la classe, composizione maschi e femmine, presenza di eventuali BES? Perché da tutte queste caratteristiche ovviamente dipenderanno anche gli eventuali adattamenti e le soluzioni che poi dovrete esplicitare nel corso delle attività, nella fase di attuazione. Mi raccomando se la traccia specifica una certa caratteristica ovviamente questa va inserita ma se la traccia vi lascia spazio tutto quello che non c'è lo potete immaginare per cui io vi consiglio di fare come feci io poi a mia volta di inserire delle per esempio difficoltà con cui avete lavorato, con cui avete esperienza, ok? Non andate ad inserire un BES di cui non avete mai avuto occasione, con cui non avete mai avuto occasione di lavorare. Facilitatevi la vita se vi è possibile. Andiamo poi a specificare qual è il punto di partenza, quindi i prerequisiti, quale attività per esempio avete svolto in precedenza, che cosa sanno già. Potete anche iniziare la vostra unità di apprendimento con una valutazione diagnostica, quindi un quiz, delle domande aperte, una lettura che stimoli una conversazione per andare a capire che cosa i bambini sanno già di quell'argomento. Questo è utile non soltanto per il docente per capire effettivamente come impostare il percorso ma anche ai fini di una autovalutazione alla fine del percorso per i bambini, per capire che cosa effettivamente hanno imparato dal lavoro svolto. Dobbiamo poi condividere con i nostri allevi quelli che sono gli obiettivi, le competenze che desideriamo che loro apprendano, i contenuti sui quali andremo a lavorare. Questo sia per stimolare la curiosità ma anche per renderli maggiormente consapevoli, dicevamo, perché nell'unità di apprendimento sono loro i protagonisti e loro devono essere consapevoli, capaci di riflettere su quanto hanno fatto e su quanto hanno imparato. Se noi non condividiamo gli obiettivi li teniamo all'oscuro di un aspetto fondamentale. Svolgimento, tempi di attuazione dell'UDA, quindi in quanto tempo pensi di iniziare e concludere tutte le attività compresa la valutazione di questa unità di apprendimento? Quali discipline sono coinvolte? E io qua vi suggerisco caldamente di inserire sia l'educazione civica che l'inglese. In particolare per quanto riguarda l'inglese vi consiglio di immaginarvi un'attività che svolgereste per la disciplina inglese e di prepararvi a spiegarla in lingua inglese. Così infatti fecero con me, mi chiesero appunto che cosa avrei proposto in inglese in relazione alla mia unità di apprendimento e così hanno fatto anche con molte persone con cui ho parlato. Quindi io vi consiglio diciamo di prevenire, comunque non si sa mai, magari vi fanno un'altra domanda però perché no, preparatevi, dimostrate in una maniera un pochino più facilitata le vostre competenze. Andiamo poi a inserire il cronoprogramma delle attività, quindi andiamo a spiegarne lo specifico quali attività proponiamo ai nostri alunni per consentire la costruzione di queste competenze. Per ogni attività dovete individuare quindi quali sono le conoscenze, le abilità e i contenuti su cui andate a lavorare, quali discipline sono coinvolte, gli spazi, la classe, il giardino, la biblioteca, la palestra, i tempi. Se eventualmente la lezione prevede più fasi, spiegatelo, prima fase, mini lesson, seconda fase, lavoro a coppie, terza fase, confronto in grande gruppo per esempio. La prossemica quindi, come sono disposti i bambini tra loro, banche ad isole, grande gruppo, cerchio, per un circle time. Ovviamente il mio consiglio è questo tra, diciamo, le postille considerare una dimensione di scuola senza covid, ok? Quindi magari esplicitatelo perché naturalmente la scuola con il covid non è una scuola che ci consente di fare tutto ciò che potremmo fare diversamente, quindi mio suggerimento spiegate che voi considerate una scuola prima o post covid. Dovete poi esplicitare le risorse, i materiali che utilizzate e anche naturalmente gli adattamenti, le facilitazioni per quegli annoying best di cui avete parlato all'inizio. Preparatevi quindi anche magari a dire quali strumenti, se voi proponete una mappa, quali strumenti utilizzereste per creare questa mappa, ok? Utilizzereste per esempio Supermappe, Cmap, Word, lo sapete fare? Preparatevi a farlo. L'hanno chiesto varie volte infatti nel concorso 2016 per cui vi consiglio di prepararvi su questo punto. Quindi se voi nominate uno strumento digitale, assicuratevi di saperlo utilizzare. Nella fase appunto della spiegazione delle lezioni, a mio parere è un po' il cuore diciamo dell'UDA in realtà, è importante che voi prevediate delle attività di peer tutoring, di cooperative learning, l'uso delle TIC, Information and Communication Technologies, quindi tablet, l'uso della LIM, piuttosto che l'uso di un certo software, programma, giochi in piccolo grande gruppo. Ricordatevi sempre che l'assetto dovrebbe essere il più possibile laboratoriale, non che non ci debba essere la lezione frontale, ma comunque un'impostazione che vada a stimolare la curiosità e la capacità di problem solving dei vostri alunni. Questo non solo per il concorso, per la verità. Passiamo infine alla terza fase che è quella della valutazione. Vi ho già introdotto un po' la questione della valutazione diagnostica, per cui è importante valutare il punto di partenza dei vostri alunni, perché solo in questo modo potete definire un percorso che sia efficace e che vada a intervenire proprio nella zona di sviluppo prossimale, anche con le necessarie differenziazioni tra un all'uno e l'altro. Ricordiamo che se noi proponiamo un lavoro uguale per tutti, ecco che la nostra non è propriamente una didattica inclusiva della serie chi c'è, chi non c'è, non c'è. Bisogna andare a prevedere degli adattamenti e delle facilitazioni perché ciascuno con le proprie capacità possa sentirsi partecipe, possa costruire le proprie competenze dal suo punto di partenza. Ricordiamo che teniamo sempre conto del percorso ed ecco che arriviamo appunto alla valutazione formativa. Nel momento in cui io infatti vado ad attuare, a mettere in atto le mie lezioni, è bene che io preveda delle verifiche o comunque dei momenti di valutazione e di osservazione intermedi che mi consentano di avere sempre sott'occhio la situazione, per introdurre eventuali modifiche, gli adattamenti per chi ne ha bisogno, perché ovviamente al centro c'è il bambino, per cui noi dobbiamo essere sempre pronti, con una grande flessibilità, a modificare il setting di apprendimento per garantirne la piena partecipazione e per rimanere nell'ambito della zona di sviluppo prossimale, come dice Vigoschi, per cui noi dobbiamo stare attenti a non proporre né compiti troppo facili, che sarebbero inutili perché non porterebbero nessun tipo di apprendimento, ma anche evitare compiti che siano troppo difficili, quindi al di sopra delle loro capacità e quindi che provocherebbero soltanto una grande demotivazione e comunque nessun apprendimento. Per aiutarci nella valutazione formativa gli strumenti che ci vengono in soccorso sono le griglie di osservazione, che vanno preparate, ovviamente in anticipo, e il diario di bordo con le osservazioni sui singoli alunni, osservazioni che io consiglio, non devono tenere conto soltanto ovviamente del riuscito a fare bene l'esercizio oppure no, ma anche dell'atteggiamento del bambino, delle difficoltà che incontra, perché ci aiutano anche a capire magari quali sono le modalità che invece lo facilitano maggiormente. Abbiamo poi finito il nostro percorso e arriviamo alla fase finale, dove è necessario mettere in atto quella che è chiamata valutazione sommativa, appunto, tiriamo le somme. Come si fa? Attraverso un compito di realtà, un compito autentico e grazie all'utilizzo di una rubrica di valutazione. Ovviamente si tiene conto dell'andamento, diciamo, di questo compito, ma bisogna sempre ricordarsi del percorso, del processo. Non si valuta solo il prodotto, ma tutto il lavoro fatto, ok? Deve poi esserci un momento di autovalutazione per gli alunni, perché possano acquisire consapevolezza dei loro progressi, quindi dobbiamo attivare il più possibile processi metacognitivi, di riflessione sul proprio apprendimento, ma anche momenti di autovalutazione per il docente, che deve valutare il proprio lavoro, considerando per esempio la partecipazione di tutti i bambini, la sua chiarezza espositiva, le attività più o meno riuscite, l'accessibilità. Quindi ho pensato a tutti i miei alunni, tutti sono riusciti a partecipare, forse avrei potuto utilizzare un altro strumento per garantire la partecipazione di tutti. L'ultimo focus è sulla valutazione sommativa, in particolare sul compito autentico. Il compito autentico richiede la consegna motivante, per esempio realizzare una mostra, organizzare un evento, accogliere gli allievi più piccoli, realizzare un labbook per poi farlo, mostrarlo ad altri, insomma ci deve essere un coinvolgimento. Dobbiamo in un qualche modo innescare la miccia, un desiderio di produrre questo prodotto, ok? Ecco perché è una consegna motivante, perché nell'unità di apprendimento siamo sempre nell'ambito di un apprendimento che deve essere il più possibile significativo, ok? L'attuazione deve essere prevalentemente un piccolo gruppo o a coppie, sfruttando magari il cooperative learning e gli studenti devono agire il più possibile in modo autonomo, ovviamente tenendo conto dell'età, però noi docenti non dobbiamo sostituirci a loro in nessun modo, perché dobbiamo svolgere il ruolo di mediatori. Noi prepariamo l'ambiente, gli prepariamo magari dei materiali, delle risorse, ad esempio possiamo dire con loro guardate vi metto a disposizione dei dizionari, se ne avete bisogno utilizzateli. La capacità infatti di utilizzare le risorse al bisogno è uno dei fattori che vengono valutati all'interno del compito di realtà. Fatto lavoro sugli animali, metteteli a disposizione dei libri sugli animali, se hanno bisogno di sfogliare per fare un disegno, per vedere delle caratteristiche, lasciate che loro autonomamente magari si rendano conto di averne bisogno e vadano a sfogliarli trovando la pagina, anche questa è una competenza. Vi assicuro che vi potrebbero stupire anche dei bambini inaspettatamente, no? Proprio. La prova di valutazione poi naturalmente deve essere coerente con il percorso svolto ed efficace, quindi deve permettere di vedere e quindi valutare le competenze acquisite, ecco perché non è affatto facile anche creare i compiti autentici. E lo dico dopo aver creato la mia, il mio compito autentico sullo scavo archeologico che vi assicuro è stato molto difficile da creare ma molto soddisfacente per me e per i bambini. Infine la rubrica di valutazione, infine poi è sbagliato perché va messa per prima, è necessario infatti strutturare una rubrica con griglie di osservazione che mi permettono di osservare appunto il livello con cui il bambino dimostra di avere fatto proprie certe competenze. Per cui ad esempio se riesce da solo oppure se ha bisogno dell'aiuto dei pari, dell'insegnante, se riesce ad utilizzare autonomamente le risorse oppure se non le utilizza fatto, gli strumenti che gli si mette a disposizione, quindi va strutturata una rubrica di valutazione per livelli. Questo per esempio è un esempio che io ho tratto dalla nuova guida Fabri Erikson, in particolare la guida di geografia della classe seconda, dove potete notare appunto dove ci sono gli aspetti da valutare e i descrittori di livello che vanno a definire dove ogni alunno diciamo si colloca, se livello avanzato, intermedio, base o iniziale. E' chiaro però che questo è solo parziale perché, ripetiamolo, prima di arrivare qui c'è stato tutto un percorso di osservazione con tanto di diari, di griglie. Questo è solo un tassello della valutazione, bisogna sempre tenere conto del bambino e di tutti i fattori che lo hanno portato ad avere magari questi risultati. Detto questo, ho concluso la mia presentazione sulla UDA. Nei prossimi giorni pubblicherò nuovi contenuti per aiutarvi nella strutturazione della presentazione, quindi proprio dal punto di vista tecnico-pratico, per l'inglese e per le TIC, le Information and Communication Technologies. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere lasciandomi un like o un commento, salvate il post e condividete o taggate un amico a cui potrebbe servire. È tutto gratuito, fa piacere avere un feedback. Un bacione e buona preparazione! Grazie a tutti!